quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live secondo me può bastare signori e signori tosca non ne sono neanche scappati tanti dai tutto sommato qualcuno è fuggito no niente è tornato anche lui no non c'è nessuna fretta come forse si è già intuito nel corso di questa serata insomma non so se hai capito dove sei capitata più o meno intanto all'interno di una chiacchierata che è anche un format un podcast che ha un meraviglioso e geniale titolo le cose che abbiamo in comune 14 autori ci si sono messi per trovarlo ma ha soprattutto una splendida sigla se sono sprecati fa cagare lo puoi dire tranquillamente lo scopo era un po' quello per capire insomma fin da subito che di serio c'è poco ma in realtà non è vero perché poi anzi soprattutto con te a un certo punto il discorso si farà serio però io sono andato a spulciare un po' nelle tue cose a parte che aspetta prima questa che è la biografia che c'è su wikipedia me la so fatta stampare adesso perché la quantità di cose dal sito mio che era meglio no ma non è quello sta pure roba è la quantità di cose che hai fatto che è impressionante lavorato con tarzan questa donna non si è fermata mai da qua iniziato tiziana tosca donati nasce in agosto come me e l'anno non è lo stesso ma di poco siamo proprio è già una cosa che abbiamo in comune un'altra si è vista prima stanno a fare i conti già ma che frega ma sì sempre ragazzini siamo una si è vista non so se hai colto che c'era anche una foto della garbatella sì l'ho vista era piazza brin quella esattamente perché io sono nata lì e tu adesso io invece ci sono arrivato ci sei arrivato ed era un quartiere non bellissimo quando io ero ragazzina ed era anche per me una cosa molto bella perché ero avvolta dal mistero ti spiego perché perché tu non potevi dire che è nata la garbatella perché se no non ti accompagnava a casa nessuno perché come minimo ti portavano sotto casa il motorino glielo levavano al povero disgraziato che mi aveva accompagnato e quindi io mi facevo portare sotto al fungo dell'euro e poi sparivo perché le corse per andare a prendere il 93 per andare a casa tutte le sere facevo questa bella no 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 vai tranquillo perché poi dopo viene mio padre non ti preoccupare questa era vivere alla garbatella allora adesso fa figo adesso infatti ci sono arrivato adesso non a caso o tra l'altro tu stai pure nel posto più figo comunque sono innamorato adesso di quel quartiere però credo che avesse un fascino anche allora in realtà sicuramente era un po diverso era una vita un po più complicata però al suo fascino ce l'aveva sì un piccolissima percentuale un po è rimasto eh se senti al bar sotto casa dove giocano a bigliardino ci sono delle cose che io non pensavo neanche esistessero delle bestemmie che non credevo potessero vabbè certo vabbè quello siamo campioni mondiali lì vabbè ma a parte questo io sicuramente sono a parte che ho letto delle cose abbastanza particolari sui tuoi bisnonni immigrati però insomma siccome non voglio farla neanche subito troppo lunga perché punto a un certo punto dobbiamo arrivare a entrare in un discorso che mi interessa sapatore io proprio sono figlia di mia nonna era americana e cioè figlia di seconda generazione di migranti italiani nata a filadelfia però erano andate lì a fare fortuna ma la mia bisnonna morì di spagnola e quindi sono tornati indietro ed era terribile l'immigrazione al contrario di cui non parla nessuno era terribile cioè quelli che tornavano a casa che non non ce l'avevano fatta e quindi vabbè questa nonna che era fantastica perché aveva sofferto tantissimo per rientrare in italia perché non la capivano lei parlava americano una specie di bruccolino non la capiva nessuno quindi lei è stata muta per un anno poi dopo ha cominciato a prendere le misure però la cosa bella è che mi ha insegnato ad accogliere tutte le cose che erano questa mia voglia di andare verso l'estero di andare verso altre lingue mi viene da questa cosa bellissima quindi una disgrazia alla fine come diventa un capitale no sì sì poi avendoti conosciuto un po di tempo fa e avendo fatto un bel po di cose insieme alla fine in questi anni so di che stai parlando perché quella curiosità non ti ho mai abbandonato continui a perlustrare a essere in questo senso una eterna bambina sei diventata poliglotta a furia di farlo probabilmente non conosco molte persone in grado di cantare in così tante lingue e così bene con almeno la sensazione perché non le capisco la maggior parte che tu le faccia tue quando canti ma quando iniziata a cantare cioè il primo ricordo che hai di te che canti te lo chiedo perché tu sei una persona con più musica dentro che conosco proprio la sprizzi da tutti i pori appena apri bocca non è solo cantare è un po di più qualcosina in più però non è solo una sceninata è quello che penso però mi chiedo quando è iniziato in che momento se te lo ricordi dunque io ho capito che cantare era sedurre mi dicono che ero piccolissima che avevo veramente due anni prima ho cantato e poi ho parlato e furba perché comunque capivo che se cantavo mi davano tutto davano i soldi mi davano le ciliegie mi davano i cioccolatini e quindi ho detto ah se fa così non parlavo cantavo quella era ed è stata per me sempre una cosa naturale proprio mi veniva avevo bisogno per esempio un'altra cosa che mi piace tantissimo fare e che non è usuale per le donne è fischiare io mi piace tantissimo fischiare piccola così vestitino bianco mano in tasca arrivavo alla garbatella e fischiavo per esempio romoletto che ti faccio ti faccio il fischio di petrolini devo volare il rossetto io ho un'acqua qui apposta rossetto rossetto no rossetto è micidiale io ho un'acqua qui apposta rossetto ammazza ma hai pensato andare all'italia e sbottare c'era uno che faceva tutti i fischi con un po' di tempo fa la domanda che volevo farti per questo chiedevo quando è iniziato immaginavo che fosse molto precoce una cosa ti sei mai chiesta che avresti fatto se non avessi cantato? sì e come dire non mi immagino in nessun'altra maniera se non forse forse ero indecisa tra l'avvocato mi piace molto sono una giustizialista sono di quelle no non è giusto e allora parto e tu sai bene e l'altra cosa che mi piaceva fare che mi piace tantissimo mischiare le materie la farmacista chissà perché però io sono attratta se c'è un bugiardino io è come se vedo non so sono lì a guardare tutte le composizioni le mie amiche si fanno curare da me c'è qualcosa mi chiamano e dicono senti c'è qualcosa sì allora puoi prendere questo quindi sono una farmacista mancata però no a parte gli scherzi la musica è per me è proprio un'esigenza io non l'ho mai fatta senza ci sarebbero stati 7-8 fogli in meno in questo in questa perché è veramente impressionante però lì c'è veramente tutto però siccome in questo periodo soprattutto mi è capitato di leggere un bel po' di biografie di quelli che sono venuti di quelli che forse verranno poi mi diverto anche ogni tanto mi incuriosisco anche io e quindi vado a leggere a spulciare semmai visto che oggi potresti fare il contrario di quello che hai fatto quando hai iniziato la tua vita cioè lì hai iniziato a cantare e poi hai parlato invece oggi inizi a parlare e poi te faccio cantare ma prima di questo spulciando un certo punto mi sono battuto in questa simpatica notizia che secondo me vale la pena ricordare non so dove sta mi sono perso io allora che a quanto pare vabbè tanto lo so nel 2014 prendi un ruolo nasce una cosa di cui non avevo mai sentito parlare credo che sia una scuola possibile sia una scuola di che cosa? di musica? che simpatica canaglia di cui tu dovresti essere coordinatrice giusto? raccontami un po' di questo spazio dunque c'è stato io sono sempre stata molto attenta appunto all'ascolto a capire a cercare se c'è qualche giovane artista che c'ha qualcosa di particolare per me è proprio un'attrazione un po' come la stessa attrazione per le lingue straniere quindi automaticamente mi imbattevo in tantissimi ragazzi che mi dicevano ma che posso fare per fare questo mestiere da chi mi posso far sentire? e la risposta era boh da uno bravo e quindi però diventava sempre più più difficile avere questa insoddisfazione ecco che torna l'avvocato che è in me questa insoddisfazione fino a che ho deciso ho detto come sarebbe bello avere un luogo dove dei ragazzi possono incontrarsi possono studiare insieme possono sognare uno negli occhi dell'altro perché poi il problema di chi fa questo mestiere è anche quello di non non stare insieme quindi pensare di essere solo ad affrontare perché è difficile comunque intraprendere la strada per essere artista è molto difficile è difficile anche per un condizionamento culturale che porta a pensare che chi fa il nostro mestiere delle volte non fa un mestiere no? e quindi devi lottare contro le persone che non ti fanno non ci credono i tuoi genitori che sono preoccupati scusa se ti interrompo perché l'hai presa molto larga e no no sono arrivata sì ma io ve lo dite questo sogno comunque non l'avrei mica potuto realizzare perché avresti dovuto incontrare qualche istituzione qualcuno che lo rendeva possibile non può essere successo simpatica canaglia 2 dunque questo sogno l'ho realizzato perché ho presentato un progetto a regione Lazio ho presentato questo progetto e questo progetto era una casa dove c'erano degli artisti che potevano studiare con a loro volta con degli artisti che facevano da tutor e potevano studiare per diventare artisti della canzone o del teatro o del multimediale e questo progetto nel 2014 nasce nasce e si chiama Officina Pasolini è un progetto che doveva doveva stare in piedi sei mesi ma la richiesta è stata talmente alta che è diventata subito dopo è diventata biennio un biennio dove moltissimi ragazzi erano lì e alcuni studiavano per diventare cantautori altri per diventare attori registi produttori musicali produttori teatrali poi c'è tutta la sezione del multimediale che insomma veramente una cosa unica un piccolo miracolo e quindi adesso questa scuola andrà avanti per sempre perché è un posto così bello dove peraltro insegnano persone come Niccolò Fabi tanto per citare Giovanni Truppi ma nel teatro ci sono dei grandi nomi del teatro italiano perché c'è anche un teatro lì? sì e come si chiama? si chiama Edoardo De Filippo e perché è questo nome scusa? sono curioso bisogna sapere delle cose perché Edoardo De Filippo che è stato uno dei più grandi insegnanti di teatro aveva la sua sede una parte ce l'aveva all'Ateneo e una parte ce l'aveva in questo teatro tanto che quando è morto hanno deciso di intestargli questo teatro che è alla Farnesina un teatro meraviglioso pensato come un teatro d'avanguardia bifronte vale a dire che la parete dietro si apre quindi si può lavorare sia quel pubblico davanti che quel pubblico dietro è una cosa eccezionale unica da preservare per sempre anche questa ovviamente sia per il nome sia per come è fatto perché è all'avanguardia poi lo spazio magari non sarà adatto perché non può ospitare ragazzi in quella zona la facciamo più breve no no vabbè in quella zona c'è uno studentato c'è uno studentato sapete che cos'è uno studentato? dieci posti saranno dieci posti letto come ovunque a Roma erano cinquecentocinquanta adesso sarebbero trecentocinquanta ah beh quindi saranno in funzione perché in questo momento storico servono ovviamente posti letto per gli studenti erano in attesa di riqualificazione ti fermo adesso ti apro sto paolo e ti faccio vedere una cosa io la sto costringendo a raccontare perché quello che sta succedendo facendo sudare eh lo so però volevo che lo raccontassi un po' a te quello spazio di cui stiamo parlando è un vanto è un vero vanto non solo di noi romani ma secondo me dell'intero paese una delle poche cose in cui diciamo andando all'estero dove ogni tanto delle cose del genere si vedono poi dire no ce l'abbiamo pure noi funziona l'hanno pensata delle brave persone soprattutto una persona sia Massimiliano Speriglio l'ha resa possibile all'epoca vicepresidente della regione invece questo spazio fra poco non esisterà più ora siccome tu hai un ruolo tu sei la coordinatrice di quella scuola e devi continuare a fare quello pensare agli studenti hai lezioni tutti i giorni avete tante cose io ho preparato una cosa sta qui dentro io ve la faccio vedere perché perché a me io mi sono un po' rotto i coglioni di quello che succede e anzi forse lo darò pure in giro questo volantino anzi ne abbiamo uno pure da vedere qua giusto è un invito che rivolgo io e un bel po' di persone ci siamo messi insieme anche a tua insaputa creando questo comitato qualcuno è qui in sala tra l'altro invitiamo la cittadinanza a vedere di che stiamo parlando fino adesso che cos'è davvero questo posto come è fatto quel teatro che cos'è quella scuola che cosa sono questi posti letto che ora da qualche anno andrebbero solo risistemati tutto questo verrà buttato al vento della scuola ci dicono perché gli accordi erano questi che verrà salvata spostata da qualche altra parte ma ancora non è ben chiaro dove ma il teatro per esempio il teatro Edoardo De Filippo smetterà di esistere diventerà una sala conferenze tutti gli spazi verdi fuori dove i romani sono andati per anni quando c'era il Cineporto l'estate romana e ancora adesso ci sono un sacco di cose che succedono diventeranno parcheggi quello teatro fra l'altro ospita da sempre spettacoli gratuiti continuamente di altissimo livello che chiunque può andare a vedere quando vuole gli studenti che possono studiare lì hanno un'occasione incredibile in più ci sono appunto 400 almeno 400 posti letto di studenti che non vengono presi in considerazione proprio tutto questo nasce da un accordo scellerato in cui chi c'è adesso sia in giunta che al governo al ministero non c'entra niente erano gli ultimi tempi della giunta Zingaretti non c'era più smeriglio guarda caso e c'era la Farnesina perché sono loro quelli che ereditano tutto questo posto c'era Di Maio però noi ci stiamo rivolgendo e parlo di questo comitato agli attuali in realtà dalla parte della regione c'è anche qualcuno che ci ascolta ma non basta a quanto pare sta per succedere sono già venuti a fare rilievi e quindi noi questo giorno cioè il 6 marzo mercoledì prossimo occuperemo quello spazio ma lo apriremo a tutti a tutta la cittadinanza saremo tanti artisti anche lì a fare da Cicerone a spiegare a dare cose informative molto più importanti di questa e forse anche a esibirci a fare intrattenimento ma ogni totta anche a spiegare e raccontare che cosa stiamo per perdere perché veramente certe cose succedono sembra che non ce ne sia veramente un motivo se non fosse abituato a scoprire poi che ci sono anche interessi economici non se ne vede il motivo considerate e poi chiudo sull'argomento e scusami se ti ho rubato il tempo ma tanto questo lo devo fare io o comunque lo dobbiamo fare noi accanto a tutto lo spazio di cui stiamo parlando c'è una palazzina gemella che è inutilizzata da decenni potevano prendere quella dare quella alla farnesina che ci avrebbe fatto la sua sala conferenza i suoi parcheggi i suoi uffici e invece distruggono un teatro che ha un valore storico pazzesco e che continua ad essere produttivo uno dei pochi forse che lo sono annientano uno spazio per gli studenti e forse vivrà ancora la scuola di alta formazione officina Pierpaolo Pasolini altrove ma non è dato sapere ancora dove quindi signore e signori non solo io vi invito a vedere ma vi invito pure a distribuire questi posso dare fate passare fate girare per me è una battaglia fondamentale scusa la violenza no io sono come tu ben sai sono abbastanza scoraggiata perché comunque ho lottato per due anni e mezzo continuando a dire che era una scelta scelerata perché io tutti i giorni sono là tutti i giorni sono con questi ragazzi meravigliosi tutti i giorni sono vicini ai loro problemi ci sono alcuni ragazzi che vengono a studiare tra l'altro aggiungi che l'officina Pasolini è gratuita grazie al Fondo Sociale Europeo è veramente un gioiello italiano e vedere tutta questa questa miopia politica cioè proprio questa poca poca voglia di di sorreggere il futuro ecco questa è una cosa che proprio fa male al cuore io voglio voglio ringraziare Daniele e tutti gli artisti che si sono uniti per questa cosa che in qualche maniera ci stanno aiutando ci date grande forza perché noi dopo due anni e mezzo siamo veramente distrutti almeno ci proviamo almeno ci proviamo non ha senso stare a aspettare che le cose continuino a accadere che siano le bombe a Gaza che siano anche questo anche perché non può finire tutto ogni volta senza un motivo sì senza un motivo ma poi si inizia così e poi si comincia a chiudere tutto signore e signori Tiziana Tosca Donati vai con la sigla va e adesso però non te ne vai no ora smettiamo di parlare di cose serie o forse no di cose serie